Ciao amici gamer, bentornati in questo video, bentornati qua sul mio canale Oggi non siamo su GTA ma siamo su un gioco, tra virgolette, comunque inerente a GTA Ed è Geowester però in versione GTA Online, GTA, mappa di GTA o come lo volete chiamare Abbiamo però anche un ospite speciale, eh l'ospite speciale è il signor Lane Antonio Calabrone Antonio Calabrone Che poi non ho capito chi è stato Antonio Calabrone Funziona come un classico Geowester però nella mappa di GTA Questa è la versione, possiamo dire, la modalità semplice Quindi ci potremo muovere, non abbiamo un tempo limite E noi semplicemente dobbiamo scegliere, dire dove si trova questo luogo e prendere più punti Se uno contro di LAN, quindi io per vincere devo fare più punti di LAN È abbastanza palese credo sta zona Quindi io direi di metterlo qui, 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 qui Lo metto qui Boom! Ho sbagliato di 29 metri signori Vedere qua Aspetta, io posso vedere anche il tuo pallino rosso ora, appena lo metti Oh io ho sbagliato di 6 metri 6 metri Eh io perché l'ho messo lì davanti, non so se vedi il mio pallino verde Sì, ho visto Cazzo, in effetti era dentro, quindi sì, in effetti potevo sbagliare dei meno Oh shit Queste zone... Ecco, dai next round Allora, io l'ho iniziato Eh, qui Questa parte non la ricordo Sì, però ci sono due parti che ha tutte queste casette in due zone differenti della mappa Però dovrebbe essere questa zona qui, però non so preciso qual è Dovrebbe essere questa, dovrebbe essere tipo, tipo qui, tieni Non so perché ci sono tutte queste curve qua Allora, qui c'è una curva Quella giusta Eh, esatto Un po' più complicato Però dovrebbe essere, secondo me, sta zona qui Mi sa del... Sì, per me tipo è qua Sbagliato, ho sbagliato i 430 Non ci credo Non ci credo Cazzo, io sono andato alla parte opposta Perché lì, una volta noi ci abbiamo fatto PvP con i cecchini Eh sì, io mi ricordavo di quello Mi ricordavo con la zona Eh, cacchio abbiamo sbagliato Cioè, io ho sbagliato di troppo Oddio, è qua? Ah, qua? Cazzo, tosta No, in realtà io so dov'è, forse Perché ho cazzeggiato molto nella mappa, quindi Io, boh Ti direi In sta zona io proprio non me la ricordo Io non so cosa c'è qui intorno Non ne ho idea Ti direi Qua vado un po' Ti sa che già l'ho trovata Vado un po' a cazzo io Ok Ho sbagliato di 500 metri, un'altra volta Non ci credo Porca troia, sei troppo Ma Ma di quanto hai sbagliato? 21 metri Dai, ma che Ma sei un mostro Mmm Sta zona Uh No, aspetta Sta zona è quella che dico io No, anzi, qua Aspetta Aspetta, forse ho capito Di missioni Sì, no Aspetta, ci possiamo anche spostare Io sfrutto lo spostamento, va Ci sono le frecce Le puoi cliccare Ok, ho capito dov'è Eh, sì, ci sono delle missioni Eh, io invece l'ho usato Siamo ancora in modalità semplice Quindi perché no Sfruttiamo i mezzi che abbiamo Anche perché ti devo recuperare Eh, qui Sta zona la conosco Però non so di preciso dov'è Eh, nemmeno io Eh, ci sono due zone uguali C'è il Kumash Che però ha tipo un porto E non credo sia quello Però la parte sotto Non mi convince a me Però potrebbe essere Mm, qui ci sono tantissime C'è tipo un hotel Quindi ha una struttura molto grande Per me è qui Dai, io pure 50 metri ho sbagliato Eh, tu l'hai messo Io ho 78 Tu l'hai messo tipo all'entrata Eh, ok, però Perché è andato dal punto iniziale Io dopo mi sono spostato Eh, vedi Dovevo considerare Dal punto iniziale Uh, questo posto lo conosco Sì, sì, si ha voglia Tante volte ci sono passato qua Eh, ok, sì Dovrebbe essere Che merda Vergolette Ah Dovrebbe essere tipo Qui dovrebbe essere Vai 32 metri 43 Ti vedo Ah, ok Minchia Vicinissimi Bano, buono, buono, buono Eh, teoricamente questo è l'ultimo round Chi ha vinto? Ho fatto 20.260 punti Io avevo 25.000 Come? Ma sei serio? Sì Eh, perché le prime Più che altro Ti andate bene Che le prime due Veramente Mi hanno fatto la parte apposta Eh, per me no Secondo round Eh, questa zona La conosco Un problema Non mi ricordo Da quale direzione era Se non sbaglio Questa è la foresta Tipo quella Sì Sì Però, ok Ma Io è di 1000 metri 438 ma era più avanti Io, ma io quelli in bocca Lì a sinistra Io non l'ho visto Forse era quello fuoristrada Ma io Completamente non l'avevo visto Però è un casino Di albero Sì Allora Eh, sì La madonna qua Tutte le volte Che ci sono passato Se non so sto posto Veramente Dovrebbe essere Siamo precisamente Qui Ho sbagliato Di 14 metri Dai Ok Ho preso il massimo Di punti Che sono 5000 Mi va benissimo 57 metri Ah, sei andato Poi indietro Tu Era proprio lì Sull'incrocio Quindi è stato molto preciso Eh, la madonna Pure qui Dai, sono abbastanza semplici questi Mi va bene che qui Comunque ci passi Quasi sempre Comunque per qualunque cosa Dei fare Il problema è che non mi ricordo Bene la località Qui Parliamo zona mare Perché lì a destra Qui c'è una piozzola Di Dove Di collano gli elicotteri Ma c'è anche tipo il molo Questa strada è quella Che va verso l'aeroporto Che va verso Lo Santos Quindi questa strada qui Quindi io sono Tipo qui Questo è un po' più indietro Qui Sbagliato i 15 metri 5.000 punti 33 Ok, ok Ok Si sta Eh, già stiamo giocando Ora Oh, belli, belli Sì, questi uccelli volanti qua Ok Ho capito che zona è Anch'io ho capito È più o meno zona Montagnosa, insomma Però, però Qui Quelle che vanno verso Sta zona Sono tante le strade È qui Sono abbastanza sicuro Che è qui 85 metri Ok, va benissimo Va benissimo Sì 147 Dove l'hai messo? Ah Eh, però ci sei andato Vicino pure tu Io pensavo che era Non so se vedi più In basso Che c'è un tratto Marrone Pensavo che era quello Il ponte Però ho visto che c'era Un doppio ponte E ho visto infatti Che sta strada andava Due volte sopra Un ruscello No? E ho detto È questo il posto Infatti era Infatti tipo Io pensavo che fosse La zona con i campi Però non c'erano campi Quindi Eh, la zona Ehm Questa zona Comunque è sempre Zona cantiere Esatto Dovrebbe essere Zona cantiere Però non so se È prima o dopo Il cantiere Non posso sbagliare Che dire 20 metri Io sono venuto da Da lì Quindi devo guardare Verso lì Ok lì Tipo qui 500 metri Madonna Shit Ma forse perché ho mosso Pure la cam Ti è andato con i cammelli Quanti punti? 20.000 Hai vinto Quanti punti? Per questo 19.750 Rischiata eh Però rischiata Questa l'ho rischiata Sì infatti 20.000 19.750 Vai Facciamo terzo E ultimo game E vediamo un attimo Allora Quanti punti di distanza Questa zona Costa Almeno Da dove me l'ha posizionata Non me la ricordo Tosta eh Questa è tosta Devo ammetterlo Prima troppo semplice Adesso questa Anche se siamo in modalità easy Comunque è È impegnativa Sì Pensa alla L'hard Mamma io L'hard che non ti puoi muovere Hai 30 secondi E Se questo video Arriva 20 like Facciamo 20 like Andiamo a fare La modalità hard Che sarà veramente Un casino Abbiamo tipo 30 secondi Non possiamo muovere la visuale Andare avanti Niente È tipo un'immagine E dobbiamo capirlo Quindi conto su di voi La butto lì È rischiosa Però la butto lì Io pure la butto lì Vai Citto Sbagliato Cazzo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Eh io non pensavo Che era quello bianco Ho detto no Dai è troppo grande Invece no Io comunque ho fatto un calcolo Ho detto Ma c'è la L'industria vicina Sono i campi La di Le vigne Il prosecco Le vigne Eh sta zona Sempre missioni Tipo del casino Il problema è che sta zona Sai che non mi ricordo Dove si trova Di preciso Di preciso Sta zona Si dovrebbe trovare Ehm Eh bella domanda Non mi viene in mente Perché le vigne Sicuramente non sono segnate In mappa E devo trovare Il luogo giusto Cioè Sono in una posizione Cioè Devo capire un attimo Da quale direzione Sto arrivando Dovrebbe essere tipo Qui Dalla parte opposta Dalla parte opposta Un metro Un metro Dai no Non ci credo Guarda non riesco Né almeno a vedere Il tuo pallino Perché è rosso No Dalla parte opposta Io ho dato L'altra curva Ehm Questo? Aspetta Sì 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 ho capito Anch'io Ma io ho capito Ehm Sì c'ho fatto Mi pare tipo Delle missioni qua Vabbè Le missioni ce ne sono Vabbè Sare tipo qui 644 metri Dai la butto lì Così senza pensarci Dai 351 metri Cazzo però Cioè Se zona dovrebbero essere A parte quella Sono un coglione Oh Quella è la cosa Dentro Forza Uncuto Lì C'è il bordino grigio Che è dentro Forza Uncuto Quella era fuori Forza Uncuto Vabbè comunque Ho sbagliato pure io Eh ok Questa zona ho capito Qual è Qui ci dovrebbe essere Ok sì il coso Ehm Questa vabbè Sì è principale Dai Non so però la zona Questa si trova Vicino agli uffici del SIO Quindi parliamo Di questa zona Qui No qui c'è l'autostrada Non può essere L'autostrada sta Dopo No Sì sta dopo Quindi parliamo Di questa zona Qui Dai la butto lì La rischio La rischio Perché qui Queste zone qui Non so I cosi precisi Beh Sono un coglione Ovvero Dietro avevo le case Abbassate No Non ci credo Eh qui eh Qui mi sono distratto io 400 metri Ho sbagliato Ultimo round Eh Hai vinto tu Hai vinto tu Eh mi sono bruciato Tutte le portità Con la cam Ribaltata Non è molto d'aiuto Eh Sta zona Dovrebbe essere La zona Dillo Santo Stuners Comunque Sì Mentre è di fronte Sì 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 Problema Va a ricordare Il punto preciso Di dove sta Lo Santo Stuners Qui metti Noi stiamo qui Oh sbaglio Sempre vado Nella parte opposta Vabbè Non ci credo Porca troppo Eh niente E niente E niente 16.000 punti E Lan Vince con 23.000 punti Eh cacchio 5.000 punti Eh beh 1.000 punti di differenza Ti stavo dietro eh Nel secondo round Micchia L'ho recuperato È un po' mia ravi Comunque ragazzi Per questo video è tutto Vi ringrazio per la visione Vi invito a iscrivervi al canale Se ancora non avete fatto Di iscrivervi su tutti i miei vari social Che trovate qui sotto In descrizione Spero che questa nuova format Vi stia piacendo Se così fosse Vi lascio il link di questo sito In descrizione E se arriviamo a 20 like Facciamo la modalità Vediamo se Ve la faccio Se riesco a farvela vedere Andiamo a fare La modalità hard Che abbiamo La camera disabilitata Il movimento Eh della camera Da andare avanti Dietro disabilitato E abbiamo un timer Di 30 secondi Detto ciò Ringrazio Lan Per la partecipazione E niente Comunque mi sono fatto battere Anche dall'ospite Quindi da Lan Vi devo esercitare Signori E nulla E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao Bye bye Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti